Mi sono sempre chiesta chissà che effetto sarebbe baciare Luca Salta, ecco. Adesso lo sai. È stupendo! Sono stupendo? No, di più! E aspetta adesso cosa arriva il resto, aspetta il resto adesso. Il resto? Beh, dobbiamo, insomma, io a questo punto non riesco più a tornare indietro, ma... Cioè? Tu sei tanto incantevole. No, 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 no. Oddio, che inguaio, che inguaio. Ma non ve lo ho nessun guaio. Ma sì che è un guaio, perché a me piacerebbe da morire fare l'amore con te, così potrei raccontare qualcosa ai miei nipoti, ma... Per favore, lascia stare la semantica. Con metterei adulterio. Lascia stare la semantica.